E ora apriamo la pagina dedicata al coronavirus perché dopo i casi di contagio aumentati la scorsa settimana la curva epidemiologica ha iniziato a scendere. In Puglia i positivi sono poco più di un centinaio ma il monito degli esperti, tra cui Pierluigi Lopalco che è consulente della regione Puglia per l'epidemia, resta sempre allo stesso. Non abbassare la guardia, continuare a indossare le mascherine e rispettare il divieto di assembramenti e servizio. In 12 regioni non ci sono più pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in 8 non ci sono nuovi casi. È positiva l'evoluzione della curva epidemiologica relativa alle infezioni da coronavirus in Italia dopo una settimana di preoccupazione per i nuovi cluster scoperti in alcune località italiane. I dati forniti dall'ultimo report del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile lasciano tirare un sospiro di sollievo. Sono più di 14.000 complessivamente le persone ancora infette, di cui oltre 13.000 in isolamento domiciliare. Trend confermato anche in Puglia. Dopo i casi di positività registrati nei giorni scorsi, a oggi solo 93 sono i positivi, un quinto dei quali negli ospedali della rete Covid messa in piedi dalla regione per affrontare l'emergenza sanitaria. Resta fermo a 545 il numero complessivo dei deceduti, mentre sfiora a quota 3.900 il totale dei guariti. Il virus non si è indebolito, ci sono meno casi e quei pochi casi sintomatici vengono identificati subito, sostiene l'epidemiologo e consulente della regione Puglia Pierluigi Lopalco, che ricorda che il Covid non è mutato e bisogna fare attenzione, continuando ad applicare le norme di contenimento del contagio, quindi sì alla mascherina e al distanziamento interpersonale di almeno un metro. Ed è polemica dopo che l'imprenditore Veneto, con sintomi e poi risultato positivo al Covid, ha rifiutato di farsi curare e che ora è in terapia intensiva. I pazienti positivi che rifiutano le cure sono irresponsabili e fanno gravi danni. Le norme sono chiare, funzionano e vanno rispettate, dichiara in una nota il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia e dice Nei luoghi chiusi, con l'obbligo della mascherina, si entra con la mascherina. Nei luoghi aperti resta il divieto di assembramenti. Chi non rispetta le regole non ha rispetto per il prossimo e danneggia tutti.